E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come eseguire il downgrade da iOS 15 ad iOS 14. Per questa procedura tutto quello di cui avremo bisogno è ovviamente il nostro iDevice a cui vogliamo fare il downgrade e un computer. Va bene se un PC Windows sia un Mac è indifferente. Se non volete perdere i vostri dati come app, salvataggi, foto, eccetera, avrete anche bisogno di un backup. Attenzione però che il backup deve essere stato fatto su iOS 14 e non su iOS 15 perché i backup non sono retrocompatibili. Comunque se avete seguito il mio tutorial per aggiornare ad iOS 15 dovreste avere già quello corretto. Bene questo era quanto, direi di iniziare subito. Come prima cosa per prepararci al downgrade dobbiamo andare a disattivare trova il mio iPhone. Tranquilli, al termine del downgrade questa funzionalità verrà riattivata automaticamente perciò il vostro iDevice rimarrà al sicuro. Quindi andiamo subito ad aprire le impostazioni del nostro dispositivo. Andiamo qua in alto a cliccare sul nostro nome. Ora andiamo qua sulla scritta dov'è, trova il mio iPhone e semplicemente dobbiamo disattivare questo toggle in questo modo. Ora inseriamo la password del nostro iCloud per confermare e dopo qualche secondo dovrebbe aver fatto. Perfetto, adesso possiamo prendere il nostro cavetto Lightning per collegare il nostro iDevice al computer. In questo modo. E direi che possiamo anche spostarci sul mio desktop perché a questo punto dobbiamo scaricare il firmware di iOS 14. Il sito per scaricarlo si chiama ipsv.me. Vi lascio il link ovviamente qua sotto nella descrizione. Ora dovete andare a selezionare il vostro modello. Nel mio caso si tratta di un iPhone, in particolare di un iPhone 8, quindi andiamo a vedere qua verso il basso. E se come nel mio caso trovate due versioni differenti dello stesso modello, sappiate che se siete in Italia avete la versione Global. Perciò vado a cliccare su iPhone 8 Global. Qui troviamo la lista di tutte le versioni di iOS per questo iPhone. A noi interessa iOS 14 ma attenzione non possiamo scaricare una versione qualsiasi perché è possibile fare il downgrade solo a quelle contrassegnate in verde. In questo momento l'unica versione firmata, ovvero quella colorata in verde, di iOS 14 è questa, ovvero iOS 14.6. Perciò non ho molta scelta. Ricordatevi anche che tra un paio di mesi, poco dopo l'uscita della versione finale di iOS 15, tutte le versioni di iOS 14 diventeranno rosse. Quindi a quel punto non sarà più possibile tornare ad iOS 14. Io sono ancora in tempo, perciò clicco su iOS 14.6 e faccio partire il download con questo bottone. Siccome nel mio caso vedete che il download non funziona, non parte niente, non preoccupatevi perché potete copiare questo link qua con quest'altro bottone e se andate ad incollarlo in una nuova scheda, lo aprite in questo modo, vedete che, ebbene sì, adesso è partito. Sono file abbastanza pesanti da scaricare, perciò aspettiamo che finisca. Ok, adesso che abbiamo finito di scaricare questo file, la procedura è leggermente diversa tra macOS e Windows. Iniziamo da quella per Mac, se avete Windows potete schippare al minuto in sovraimpressione. Sul nostro Mac dobbiamo andare ad aprire una nuova finestra del Finder e se avete collegato il vostro iDevice al computer tramite il cavetto, lo dovreste trovare su questo menu laterale. Se è la prima volta che lo collegate, tra l'altro vi chiederà anche alcune autorizzazioni, quindi andiamo a cliccare qui e andiamo a sbloccare anche il nostro iPhone. Ci chiederà un'altra autorizzazione, dovrete inserire il vostro codice di blocco e dentro qualche secondo dovrebbe rilevarlo correttamente. Perfetto, una volta arrivati su questa schermata dobbiamo andare a tenere premuto sulla nostra tastiera il tasto Option. Dopodiché dobbiamo andare a cliccare qua su Ripristina iPhone e ora ci apparirà questa finestra. Qui dobbiamo andare a prendere il file di iOS 14 che avevamo appena scaricato. Lo dovrei trovare tra i download, infatti eccolo qua. Lo riconoscete subito perché ha estensione IPSV, quindi andiamo a selezionarlo e clicchiamo su Apri. Ci dirà che verrà ripristinato completamente il nostro iPhone e verrà installato iOS 14. Quindi confermiamo cliccando su Ripristina. Se avete un backup ovviamente non è un problema perché dopo potrete recuperare tutti i dati. Dopo ovviamente vi farò anche vedere come fare. Ora non ci rimane che aspettare il completamento dell'operazione. Se siete su Windows invece come prima cosa dovete scaricare iTunes. Lo trovate direttamente dal Microsoft Store, vedete potete cercarlo da qua oppure vi lascio il suo link sempre qua sotto nella descrizione. Lo scaricate, lo installate, io ce l'avevo già sul mio computer perciò andiamo subito ad aprirlo. Eccolo qua. Ora se avete il vostro iDevice collegato al computer tramite il cavetto Lightning troverete la sua icona qua in alto. Se la prima volta che lo collegate e non lo vedete provate a sbloccare il vostro iDevice perché potrebbe chiedervi alcune autorizzazioni. Lo sbloccate e inserite la password insomma. Una volta che anche il vostro computer ve lo rileva potete cliccarci sopra e ora su questa schermata dobbiamo andare a tenere premuto sulla tastiera il tasto Shift e quindi andiamo a cliccare qua su Ripristina iPhone. Ora su questa finestra ci chiederà di selezionare il file di iOS 14 che avevamo scaricato prima. Lo riconoscete perché è un file con estensione IPSV. Il file che avevo scaricato è proprio questo qua perciò lo seleziono, vado a cliccare su Apri, perfetto. Ci dirà che verrà ripristinato completamente il nostro iPhone e verrà installato iOS 14. Se avete un backup ovviamente non è un problema perché dopo potrete recuperare tutti i dati. Confermiamo e ora beh non ci rimane che aspettare. Durante questo processo il nostro dispositivo verrà riavviato più volte, è normale, è un po' come quello che succede durante gli aggiornamenti. Perciò lo lasciamo lavorare e aspettiamo. Bene, abbiamo quasi finito. Al termine se avevate fatto il backup sul vostro computer vi chiederà direttamente qui se volete recuperare i vostri dati. Questa è la schermata che appare su Windows ma tranquilli perché il funzionamento è analogo anche su Mac OS. Se invece avevate usato iCloud per il backup dovreste poter recuperare i vostri dati direttamente dal vostro iDevice durante la fase di configurazione iniziale. Partirà un altro caricamento, anche qui potrebbe volerci del tempo ma la durata dipende principalmente da quante cose ci sono da copiare. Perciò aspettiamo di nuovo. Ci siamo, come potete vedere ho di nuovo tutte le mie app. Adesso vedete alcune le sta ancora caricando ma insomma è normale. E come prova del 9 vi faccio vedere che se vado sulle impostazioni qua su generali, info, ecco che effettivamente siamo tornati ad iOS 14. Tra l'altro se proprio volete evitare che in futuro vi si aggiorni in automatico ad iOS 15, se andate qua indietro nella sezione aggiornamento software trovate qua gli aggiornamenti automatici e se disabilitate questo toggle non andrà proprio più a scaricarlo. Ok, detto questo per il video di oggi era tutto. Se vi è piaciuto e vi è stato utile fatemelo sapere lasciando un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti!